Quattro arresti e numerose perquisizioni da parte della squadra mobile della questura dell'Aquila in collaborazione con quella di Roma, tra il capologo bruzzese e la capitale, nell'ambito di un'inchiesta per spaccio di sostanze stupefacenti. A Roma uno degli indagati si è prima barricato in casa e poi ha tentato di fuggire dal primo piano dell'appartamento, ma è stato bloccato dai poliziotti. All'interno della sua abitazione sono stati trovati droga e almeno 7.000 euro in contanti, ritenuti frutto di illeciti. Le misure cautelari sono state messe dal giudice per le indagini preliminari dell'Aquila dopo la richiesta della Procura della Repubblica. L'operazione è stata denominata Platforms perché gli indagati nelle conversazioni telefoniche indicavano la droga con il termine criptato pedane, in inglese appunto Platforms.